qual è il punto o si riconosce che oggi in italia anche trasversalmente riapriamo la discussione di come si governano i flussi migratori e di come si fa integrazione perché io rivendico che demolire il modello degli sprar dei sistemi di accoglienza probabilmente non erano le risposte giuste i cara o i luoghi che erano utilizzati come transito ma ci dobbiamo porre questo problema e il contenzioso con la francia dimostra che non se lo sta ponendo l'europa qual è l'errore nel rapporto con la francia che quando il governo francese ti appela disponibilità stiamo parlando di 234 migranti noi stiamo scatenando una crisi diplomatica per 234 migranti che sono importanti perché sono persone ma proprio perché sono persone e fuori discussione che vanno aiutati soccorsi curati e governato nel loro processo di inserimento integrazione perché la scateniamo ma non perché la meloni fa il fenomeno ma perché a un certo punto salvini reagisce a quella cosa dicendo la pacchia è finita avete visto che adesso non ce li prendiamo noi il capogruppo della lega gli va dietro e cosa succede succede che anche macrona qualche problema di opinione pubblica interna perché la leppendice avete visto quando vengono i miei amici che il ventre molle se li prende e la ce li manda considerando giungo una cosa che la questione migranti è altrettanto divisiva in francia ma certo ma io ero qua tra l'altro da lei nei mesi di bardonecchia dove sul confine loro respingevano e quindi è evidente che il problema è un problema europeo che i paesi non hanno affrontato e risolto ma l'errore clamoroso a fronte di quella disponibilità tu avevi due strade dire oggi italia e francia danno una lezione all'europa cioè quello che non sta facendo bruxelles lo facciamo noi facendoci carico essendo l'italia appunto di primo approdo e pagheremo sempre il prezzo più alto e la francia che aiuta questa risposta a quel punto ti tieni la francia anche sulla battaglia del prezzo delle bollette e sul tetto invece se fai se fai il fenomeno e gli dici la pacchia è finita è evidente che mandi in sofferenza dal punto di vista politico perché c'è un'affermazione da fare la campagna elettorale è finita sì e adesso che sei al governo devi tenere un sistema di relazioni soprattutto con parigi e con berlino perché io non voglio tornare ai tempi in cui conte lamentava che neanche lo invitavano i bilaterali perché ci abbiamo alle spalle invece i mesi in cui draghi portava sciolze macron su quel treno ad affrontare insieme le politiche europee io penso che questo sia la questione molto seria molto rilevante ma tutta di gestione strategica dei problemi in relazione al rapporto con l'europa allora intanto questo è il tweet di del tanto più volte evocato salvini vediamo l'inspiegabile nervosismo di alcuni politici francesi a fronte dell'arrivo di 234 immigrati via nave in italia gli sbarchi sono stati quasi 90 mila da inizio anno e di questi la francia ne ha accettati solo 38 l'europa intera solo 117 a protestare dovrebbe essere l'italia ma se continuiamo con le provocazioni però non però il ragionamento che faceva richetti